Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e dunque le Juventus Women vincono anche col Montpellier Montpellier per 2 a 1 e che vi devo dire? Che vi devo dire? Sono arrabbiatissimo perché nessuna televisione ha trasmesso la partita, quindi posso solo dirvi che la Juve ha vinto grazie a una doppietta di Cristiana Girelli, il Montpellier ha ridotto le distanze al minuto circa al minuto 39 e nel finale di partita c'è stato il rosso per Sara Cagliazzo. Questo posso dirvi, questo posso dirvi perché è tutto quello che sappiamo ed è una cosa veramente assolutamente vergognosa. Mi dispiace tantissimo perché le ragazze non lo meritano e dovevo partita a Girelli semplicemente perché è quello che è emerso dai due gol, però diciamo che è importante aver vinto questa partita così come attenzione, credo che sia molto importante la vittoria della Roma contro il Paris Saint Germain, attenzione anche se Paris Saint Germain aveva fuori molte giocatrici ma è una vittoria molto importante e credo che saranno le due squadre che alla fine si giocheranno il campionato. Penso che come ho detto, l'ho già detto in realtà l'anno scorso, quindi assolutamente assolutamente e niente ragazzi c'è poco da dire ripeto stiamo parlando del nulla stiamo parlando del nulla e questa è una cosa che non mi piace. Fortunatamente il gamper verrà trasmesso, almeno così c'è stato detto e speriamo insomma. Sarebbe bello dopo queste prime tre vittorie nell'amichevoli competere ad alto livello col Barcellona, sarà molto difficile ma penso che se giochiamo come sappiamo possiamo provare a dar fastidio alle Blaugrana campionesse d'Europa. Adesso staremo a vedere, ragazzi io vi saluto, vi do appuntamento col prossimo video con le Juventus Women che hanno vinto contro il Montpellier per due reti a uno con la doppietta di Cristiano Girardi. Ciao a tutti ragazzi al prossimo video.